Continua il controllo del personale del Corpo Forestale dello Stato in merito alla raccolta di funghi. Sono diverse le sanzioni amministrative elevate sul territorio provinciale di Cosenza in violazione alla legge del novembre del 2001, che regolamenta la raccolta dei funghi spontanei freschi all'interno del territorio regionale, in particolare nella presila cosentina, nel territorio dei comuni di Spezzano Piccolo, Celico e Spezzano della Sile, in località particolarmente frequentate da cercatori di funghi sono stati controllati in queste settimane, centinaia di persone intente a cercare e a raccogliere funghi. A seguito di tali controlli diverse le persone risultate non regolari poiché o utilizzavano mezzi non idonei, come buste e secchi di plastica e rastrelli, o perché sprovvisti di tesserino regionale. A seguito di tale attività sono stati elevati e contestati ai trasgressori sanzioni amministrative per circa 5.000 euro. La stessa attività è stata estesa sul territorio degli altri comuni ricadenti, nella giurisdizione di pertinenza del comando, quali Casori Bruzio, Pedacia, Serra Pedacia e Trent, dove insistono diversi luoghi frequentati da ricercatori di funghi.